Il sesso, a ben pensarci, è una forma di cannibalismo, la purezza è la cosa più sporca del mondo e l'amore è sempre una perversione mortale. Lo sguardo feroce di Giorgos Lantimos in Kind of Kindness scioglie la maschera dorata della gentilezza sul volto dei suoi protagonisti e ci mostra tutto l'orrore della nuda realtà. Sono tre le storie che il regista greco propone in Kind of Kindness, tre episodi recitati dallo stesso cast di attori che appaiono slegati tra loro, fatta eccezione per la presenza di un uomo, RMF, che non pronuncia una sola parola per tutta la durata del film e che dà titolo ai tre atti che lo compongono. Il primo episodio, La morte di RMF, racconta la storia di Robert, un uomo la cui vita dal menù della colazione al numero di volte in cui ha rapporti sessuali con la moglie, è completamente controllata dal carismatico Raymond. Quando però quest'ultimo gli fa una proposta intollerabile, Robert decide di non obbedirgli, ma qual è il prezzo per la libertà? Nel secondo episodio, RMF vola, Daniel, un poliziotto, è disperato per la scomparsa di sua moglie Liz, dispersa dopo un incidente in mare. Quando però la donna torna a casa, Daniel non riesce a essere felice, è convinto infatti che quella non sia davvero sua moglie, ma un'impostura, un essere dei piedi troppo morbidi che si nasconde dietro l'aspetto di Liz. Nel terzo e ultimo episodio, RMF mangia un panino, Lantimos ci parla di Emily, una donna che ha abbandonato la propria famiglia per unirsi a una setta e che ha deciso di dedicare la propria vita alla ricerca di una donna dalle capacità uniche. Ma i miracoli sono rari e i santi non sono fatti per calcare le strade di questa terra. Lantimos, nella sua ultima pellicola, perverte tutto ciò che può illuminare l'esistenza dei suoi protagonisti, esaspera ogni elemento positivo fino a trasformarlo in orrore grottesco. La morale, l'amore, il sesso, la vita stessa si trasformano tra le sue mani in una caricatura, un pezzo di carta dietro il quale ogni uomo cerca di nascondere la belva feroce, l'animale affamato e spietato che è in realtà. La società, le convenzioni che impone, sono maschere che però falliscono il compito di ingentilire l'animo umano. L'unica cosa vera, ci dice Lantimos, è il desiderio, la fame, la paura, l'unica cosa che rende autentica una vita è la morte. Kinds of Kindness è un film conturbante e disperato, un proiettile cosparso di miele che si conficca inevitabilmente nei pensieri degli spettatori. Gli attori cambiano ruolo, si scambiano le maschere, indossano vestiti, capelli, nomi diversi, ma ci dicono tutti la stessa cosa. Non c'è niente di più crudele, non c'è niente di più feroce di un sorriso gentile. Esiste, d'altro canto, qualcosa che abbia più denti di un sorriso? Sono tantissimi i film che arriveranno al cinema questa settimana, scopriamoli insieme. Ad aprire la nostra rassegna c'è una commedia statunitense piena d'azione e avventura, Bad Boys Ride or Die. Protagonisti di questa pellicola sono due agenti, Mike Lowrey, interpretato da Will Smith e Marcus Burnett, Martin Lawrence. I due, nel corso di un'indagine di corruzione all'interno della polizia di Miami, scopriranno che il loro ex capo, il capitano Conrad Howard, è accusato di aver collaborato con alcuni criminali e ben presto anche loro saranno sospettati di aver lavorato insieme a lui ai cartelli della droga. Costretti alla fuga, riusciranno i poliziotti a dimostrare la loro innocenza? Dalla Francia arriva invece The Animal Kingdom, un film avventuroso con elementi fantascientifici che cerca di rispondere a una domanda che da bambini tutti ci siamo posti almeno una volta. Cosa accadrebbe se gli esseri umani potessero volare come un aquilo o nuotare come uno squalo? Nella pellicola alcuni esseri umani chiamati ibridi iniziano a manifestare delle mutazioni che li avvicinano al regno animale. Intrappolati in alcuni centri, gli ibridi non hanno occasione per interagire con l'ambiente circostante, ma tutto cambierà quando un convoio che trasportava alcuni di loro deraglierà. Per chi ama la fantascienza più classica c'è invece L'Impero, un film ambientato in un villaggio a nord della Francia. Qui alcuni cavalieri extraterrestri che fingono di essere abitanti del villaggio combatteranno una guerra in cui si scateneranno le forze del bene e del male. Tutt'altro sapore è il film greco Attenberg, una pellicola drammatica girata nel 2010 ma che arriva nei cinema soltanto quest'anno. Marina, ragazza protagonista di questa storia, non riesce ad apprezzare la specie umana verso cui prova una fortissima repulsione. Nonostante ciò continua a studiare gli esseri umani, ascoltando canzoni, guardando documentari e assistendo alle lezioni di educazione sessuale che riceve da Bella una sua amica. Le cose prenderanno una piega imprevista quando nella città dove vive Marina arriverà uno straniero che la sfiderà a una partita di calcio balilla. Come sempre al cinema ci saranno anche diversi film italiani, come Dall'alto di una fredda torre, film drammatico diretto da Francesco Frangipane che parla di una malattia che sconvolgerà una famiglia. I due genitori infatti sono allora insaputa malati di una gravissima e rara malattia e solo uno di loro potrà essere salvato. Starà ai figli decidere chi far vivere e chi lasciar morire. Molto più leggero è invece Il mio regno per una farfalla, commedia diretta da Sergio Assisi ambientato sull'isola di Ischia. Quando il donnaiolo e il responsabile sasà compie 50 anni, scopre di stare per ereditare una fortuna, ma questo invece di rallegrarlo apre nella sua esistenza una profondissima crisi perché per poter intascare il denaro sarà costretto a sposarsi. Adatto a tutta la famiglia è invece Robo Puffin, un film d'animazione tutto italiano, diretto da Domenico Saverini, in cui Puffin, delle pulcinelle di mare dotate di poteri speciali, sono pronti a vivere una nuova avventura. Per scongiurare una minaccia che potrebbe portare alla loro estinzione, i Puffin saranno costretti ad affrontare loop temporali, cloni e anche il terribile Robo Puffin, Robo loro nemico. Il 13 giugno sarà l'ultima occasione per vedere The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye, un film d'animazione giapponese che stravolge le leggi dello spazio e del tempo per raccontare la sua storia. Quando Kaoru Tono trova un tunnel che somiglia a quello della leggenda di Urashima, non sa se attraversarlo o meno, stando a ciò che si racconta, arrivando dall'altra parte, chiunque troverà ciò che il proprio cuore desidera. Aiutato dalla studentessa Anzo, entrerà nel tunnel, ma cosa succederà quando arriverà alla sua fine? Questa settimana al cinema arriva anche il film d'opera britannico, Andrea Chenier, ambientato durante la Rivoluzione Francese. Non mancheranno nemmeno i documentari, come Viaggio al Polo Sud, in cui viene raccontato il lunghissimo viaggio tra Patagonia e Polo Sud. Infine, due saranno i documentari dedicati a Enrico Berlinguer. In Arrivederci Berlinguer, diretto da Michele Mellare e Alessandro Rossi, lo sguardo si sofferma sui funerali del politico italiano, mentre in Prima della fine, Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, diretto da Samuele Rossi, vengono raccontati gli ultimi giorni di vita dell'uomo. E tu cosa andrai a vedere al cinema questa settimana? Faccelo sapere in un commento e noi ci vediamo la settimana prossima per una nuova puntata di Beat. Arrivederci! Grazie a tutti!